Ieri il risultato per loro è di zero penalità e 73 secondi e 60. Intanto la campana è per Lucrezia Chiaudani che è in sella catalano, 63 è il numero della testiera. Il risultato di Vittorio Cavalieri esclude dalla seconda masce Giuseppe Rolli, quindi fino a questo momento della gara. L'ultimo risultato utile per l'accesso in seconda masce è quello di Gabriele Gallina con 4 penalità e 70 secondi e 77 risultato per Contendra. Grazie a tutti. Ed abbiamo il catalano qualificato per la seconda masce, chiude la prima con zero penalità e 71 secondi e 85 il tempo. Abbiamo in campo ora...